Con una zampata di classe degna di quando illuminava in maglia biancorossa, il DS Luca Matteassi ha piazzato il primo importante colpo in casa Piacenza Calcio e regalato a Mr. Franzini il trequartista che chiedeva da tempo. È Luca Cattaneo, classe 1989, che ha rescisso il proprio contratto con il Novara e si è ufficialmente accasato alle corte dei fratelli Gatti, per lui un accordo biennale. Giocatore di grande esperienza, vanta quasi 300 presenze, quasi tutte in Serie C, e una militanza in squadra come Pordenone, Brescia e Reggiana. Nell'ultima stagione ha prima collezionato 13 partite, un gol con il Novara, per poi essere girato in prestito al Gubbio, dove ha aggiunto altre 11 presenze. Può giocare sia come trequartista sia come attaccante esterno, dando così a Franzini maggiori soluzioni tattiche in avanti. Il suo arrivo sembra però il preludio a un sempre più possibile addio di Mattia Corradi, vicino al Monza di Berlusconi. Il mercato però ha appena iniziato per la società biancorossa e si attendono altri importanti arrivi. Bisognerà attendere la prossima settimana per vedere come si svilupperà l'affare Daniele Cacia, che si tenterà di soffiare al Novara per rimpolpare l'attacco, sperando dunque di poterlo vedere in coppia con il suo ex compagno di squadra Cattaneo nella prossima stagione.